La posta in palio è alta, lo spettacolo garantito. Sabato all'esterno del palapanunzio di Molfetta andrà in scena il match internazionale di pugilato fra Claudio Squeo e il colombiano Julio Cesar Calimeno. I due pesi massimi leggeri puntano a scalare il ranking mondiale. Una vittoria consentirebbe al Molfettese di salire decine di posti e soprattutto ambire a ruolo di sfilante per la cintura IBF dell'Unione Europea. Un'opportunità che Squeo, detentore del titolo italiano e reduce da una serie di ottimi combattimenti, intende sfruttare, confidando nel tifo degli appassionati del territorio per arrivare il più in alto possibile. Combattere davanti al pubblico di casa è sempre un'emozione fortissima. Per fortuna, grazie a Francesco Spezza Catena, abbiamo organizzato il titolo del Mediterraneo a marzo e il titolo italiano a dicembre. Entrambi vinti, quindi speriamo che Molfetta ci porti nuovamente fortuna. Calimeno è il primo in classifica in Colombia, è 30 posizioni più alto di me in classifica a livello mondiale, quindi è 106esimo e come caratteristiche predilige la lunga distanza essendo un metro 96 alto. Un avversario di tutto rispetto molto pericoloso che ha fatto già diverse vittime in Austria, in Germania, combattuto con due campioni olimpionici, quindi c'è da lavorare parecchio. Io sono un fighter, quindi il mio stile rimane sempre quello, di attaccare, muovere il tronco, le gambe in modo rapido. Abbiamo studiato la strategia, però le mie caratteristiche sono quelle, quindi non posso modificarle più di tanto. Il sudamericano Calimeno è senza dubbio un cliente scomodo per Squeo, specie considerando le differenti caratteristiche fisiche. Buono, qui, sempre questo lo apprendi di qualcuno. Ho imparato questo, il ring all'ultima parola. Sono qua non solo come visitatore o solo per combattere, ma anche per vincere, per concretizzare il lavoro che facciamo in palestra, per cui sì, sarebbe bello raggiungere il sogno. Sono venuto qui in Italia per guadagnare una posizione migliore. La sfida fra Squeo e Calimeno sarà l'evento clou di una riunione che avrà inizio alle 20 e 30, in programma altri incontri particolarmente interessanti. Abbiamo organizzato una serata molto forte, mettendo tutti i pugili di qualità. Ci saranno otto pugili che si sfideranno con la campagna, dilettanti, ma tutti di abbastanza di alta qualità proprio per non rovinare il tema della serata.